Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è Nabo. Oggi siamo qui per farci un paio di partite per arrivare in divisione 1. Siamo alla divisione 12, abbiamo già conquistato i 3 punti che ci servono per arrivare in divisione 11 e l'altra volta io non avevo visto che sotto c'è scritto stagione successiva, schiacciando X. Quindi una volta che riusciamo ad arrivare ai punti che ci servono, schiacciando X, come in questo caso, completa la stagione attuale e passa la prossima con le stesse statistiche. Continuare? Sì. E continuiamo. E dovremo quindi avanzare di divisione. Partite 7, vinte 3, pareggiate 1, sconfitte 3, vittorie percentuali 42,9% e facciamo abbastanza schifo e fin qui lo so. Però, però che cos'è? Promosso in divisioni. Vai così! Oggi ci facciamo due partite, giusto per vedere come ce la capiamo ancora, anche perché sono un po' di tempo. Che non è... ecco. Quindi andiamo a vederci subito come siamo. E sperando naturalmente di trovare avversari in grazia di Dio. Perché di sol... che non laggi, che vada tutto bene, insomma. Quindi sì, vai a matchmaking. Eccolo! Pippi Bosingua! Andiamo, andiamo. Abbiamo trovato il giocatore. Adesso ci mettiamo la nostra bella divisa. Lui rossa, noi naturalmente verde. Chi cazzo ha questo? Questo secondo me ci fa il culo, ci fa ragazzi, eh. Io lo dico. Secondo me questo ci fa il culo. Salve, salve. Il Montpellier HSC. Attenzione. Io lo dico. Eccolo Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Michele. Ecco il tiro. Eeeh, occhio che noi siamo lì, eh. Noi siamo sempre lì. Facciamoci un bel trenino, non è di rigore. Vai, Zacc, qualcosa. Proviamola. Non è vero mai. Bella. 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 Mi sembrava fuori. Inchia, mi sembrava fuori. Bella. Sta svegliando che è il Montpellier. Attenzione il Montpellier. Come di consueto noi tiriamo dalla distanza, perché prima o poi... Non poi sono sicuro che lo svegliamo, ragazzi. Sì, bravo. Guarda. Due. Passamela, passamela di nuovo, se ce li hai. I cosiddetti. Passa, passa. E c'è la blocca. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Guadagna metri. Meglio che sia gol. Perché l'ho vista brutta, eh. L'ho vista brutta. Se non ci faceva il gol, quello... Ci andavamo a... Eh, sì. Bella serie di passaggi. E Rami. Prova il filtrante. Vai. Eh, ci ha fregato. Ci ha fregato. Ecco il gol. Vuole la profondità. Prova il filtrante. Prova con la palla filtrante. C'è spazio, occhio. Da lì può concludere. E supera il portiere. In sacca. Un gol molto importante. Cazzo. E si dà nel migliore dei modi. Vai. Cerca spazio. Tocco preciso. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Cazzo. Poteva essere l'occasione a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Pallone morbido verso la fascia. Vai a tu, Ulis. Vai a tu. No. Cazzo. E dai. Sì, vabbè, però, cazzo. Fischi anche primo, vabbè. Fischi alla fine della gara. È una lezione durissima questa. Non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo. La stavano controllando e poi l'hanno letteralmente buttata via. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Cagliari e Monaco. Pronto. Questo mi sa che è forte. Questo mi sa che è forte. Vai Martigno. Insieme a Parana. Non lasciarlo girare. È bella così, dai, però non ci fa nessuno. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ovunque, questo è un cazzo. Ho fatto tutta la distruzione. Può partire il contropiede. Iniesta. Eccola la rete. Prova la giocata nello spazio. Bel pallone. Va di testa. Perché di testa? Perché di testa? Di testa. Va, quel coglione. Dovevi tirare una cannonata e vai di testa. Vai. Lo sapevo. Se fai uscire il portiere, il giocatore dice Ma tiro, non tiro. E allora prova a fare una cagata come quella. Cazzo se passava. Ma non ne passa una. Qui non ne passa. Puttana Eva. Vuole la profondità. Di nuovo. E ancora niente. Vabbè. Tira. Manca un fallo. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Perché? Dovevi tirare di prima. Porca puttana. Di prima. Sai cosa vuol dire? Di prima? Va a fa' culo vuol dire. Ottimo disimpegno. Ottimo disimpegno. Cazzo. Manca un tiro. Manca un cazzo di cose che vada bene. Poi uno dice che spacca i joystick. Che ci credo che uno spacca i joystick. Calma. 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 Si parte per la seconda pressione di Gioio. Prova il filtrante. Tenta la conclusione. Ah si. Tirala tanto. Ma cadi. Buttati. Ma va a fa' culo. Ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Eh sono più forti. Sono più forti. Non ci possiamo fare un cazzo. Va bene. Noi abbiamo una squadra di merda. Non è. Cazzo devo sciopare. 50 euro per trovare un giocatore. Cazzo. L'unico che ci ha dato è Tebbets. In tutto il porca puttana. Affanculo va. E va bene ragazzi. Diciamo che anche per oggi è tutto. Noi naturalmente ci riproveremo. Ci riproveremo senz'altro. Però quella squadra che abbiamo. Dobbiamo. Eh ragazzi. Dobbiamo arrangiarci. Dobbiamo arrangiarci. Abbiamo questo. Questo abbiamo. Noi abbiamo altre. Quindi quando becchiamo qualcuno forte. Con giocatori forti. Eh ci sta. Ci sta che perdiamo. Oggi ne abbiamo perse due. Ma ci riparemo. Noi non andiamo. Noi non retrocediamo. Divisionalità. Noi siamo in 11. Ci rimarremo. Sperando di arrivare in 10. Dai ragazzi. Io per oggi vi saluto. Vi ringrazio di aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto. Vi è strappato un sorriso. Iscrivetevi al canale. E niente ragazzi. Ricordatevi di divertirvi. E che in fondo siamo tutti un buon appi. Ciao ragazzi. Che cazzo era? Era una bomba era. Questa merda. Vedi? Cioè ma che cazzo è? Non fanno neanche passaggi giusti. Bella che c'è la spirito di squadra 98. Ma il 98 cazzo in culo. Ciao. Ciao.